di scienze sociali, politiche cognitive che è il professor Valsania, c'è qui presente la professoressa Rega che è la nostra docente di scienza della comunicazione e abbiamo gli studenti tutor. Accanto a me c'è Giovanni Gozzini che è docente del corso di laurea di scienza della comunicazione che ci insegnerà la prima lezione, inclusi noi docenti, che apre il suo corso nel corso di laurea in scienze della comunicazione. È un modo per far capire a chi magari è ancora a scuola e che ha intenzione di iscriversi il prossimo anno a questo corso di laurea o altri corsi di laurea dell'Ateneo come pensiamo di organizzare la nostra didattica, come pensiamo di offrire le nostre competenze agli studenti ed è un evento che per noi si ripete ogni anno e che per noi è veramente importante. Subito dopo la lezione del professor Gozzini faremo parlare anche gli studenti tutor che sono un importante, che danno un importante contributo all'attività del Dipartimento e dell'organizzazione del corso di laurea, seguendo gli studenti e aiutandoli nel loro processo di entrata nell'università. Io spero che mi sentiate tutti bene, se ci sono degli interventi prima di dare la parola al professor Gozzini sono a disposizione, altrimenti magari apriamo il microfono subito dopo la lezione. Se non ci sono domande, naturalmente vi invito a tenere i microfoni spenti per non avere problemi di ecco, e lascio la parola al professor Gozzini. Ora sta presentando lo schermo, quindi devi aprire le slide sullo schermo. in basso, powerpoint in basso, più in basso ancora, a destra. Chiedi conferma se lo vedo. Vedete tutti un quadro abbastanza noto? Silenzio al senso, direi. Allora, io cercherò di farvi fare stamani qualcosa che non siete abituati a fare in genere, cioè fermarvi. Voi siete abituati a flussi di immagini a colori, in movimento, sempre più accelerate, al massimo in mene, cioè una cosa molto sintetica che si spiega quasi da sé. Io cerco di farvi fare qualcosa che è invece il contrario di questo, cioè guardare un quadro. Più o meno questo quadro l'avete un po' già visto, però la prima domanda è perché è un quadro in bianco e nero? Se ci sono miei studenti in ascolto non si preoccupi, mi cercherò di portarli, se mi riesce stamani, in un posto diverso da quello dove li ho cercati di portare settimana scorsa. Perché è un quadro in bianco e nero? Non è che Picasso, che è l'autore di questo quadro, famoso pittore, lo sapete, non sapesse usare i colori o non avesse i soldi per comprarseli. Questo dipinto l'ha fatto 30 anni prima e come vedete qui il colore si spreca, poi ci torneremo. Ci sono due spiegazioni possibili. La prima è questa. Questa è una foto molto famosa, la scattata Robert Kappa, che è ungherese di origine, non è poi girato tutto il mondo, forse il fotoreporter più famoso del Novecento, muore nel 1954 a Dien Bien Phu, in Vietnam, saltando sopra una mina, passando attraverso il giorno più lungo, lo sbarcho in Normandia. Questa è la prima foto che lo rende famoso in tutto il mondo, perché è la foto che ritrae la morte. Il momento drammatico in cui un miliziano, cioè un partigiano, vedete che non ha un uniforme, non è un soldato di un esercito regolare, viene colpito e viene ucciso. È una foto talmente impressionante, scattata l'anno prima che Picasso cominciasse a dipingere Guernica, e ha fatto il giro del mondo su tutte le riviste, perché appunto mantiene questo significato enorme. Il momento più importante per ciascuno di noi viene proprio fermato in quell'istante. Tanto è vero che ci sono state tante polemiche, se questa foto era vera, autentica, oppure Robert Capa avesse messo in posizione qualcuno che facesse l'attore, non si sono mai placate queste polemiche. Ancora l'anno scorso è uscito un libro che cercava di fare il punto, ma poi non ci è riuscito, perché ha messo in fila appunto le due ipotesi contrastanti. Una delle cose che imparerete se venite da noi è che questo non è la cosa più importante, quello che è importante è la percezione. Per tutti questa foto è l'immagine della guerra e della morte. Se sia vera o no, ha un'importanza secondaria rispetto al fatto che tutti l'hanno presa come il simbolo di questa cosa, e che quindi la sua percezione è reale. Se è stato un gioco di prestigio, un inganno, è un gioco di prestigio, un inganno ben riuscito. Nella comunicazione ci sono queste sfumature, bisogna stare attenti, c'è un'etica, quindi tante questioni, però questa differenza alla fine è quella che conta. Se riesci a comunicare in maniera efficace il tuo messaggio. Ci sono state altre foto nella storia importanti come questa. Questa è del 68, 30 anni dopo. Questa ha fatto cambiare le sorti della guerra, perché quello che tiene la pistola in mano e spara è il capo della polizia di Saigon, del Vietnam del Sud, cioè col regime presunto democratico che gli Stati Uniti sono andati a sostenere. La gente negli Stati Uniti si rende conto che non può essere democratico un paese dove il capo della polizia spara così a uno. Per quanto quell'uno quella mattina avesse ucciso il suo braccio destro, il braccio destro di Ngoc Loan, il capo della polizia di Saigon, la moglie e cinque figlioli. Quindi diciamo ogni immagine c'è un significato primario evidente e poi dietro c'è un backstage, un retroscena. Per cui questo non è naturalmente che giustificasse il capo della polizia di Saigon. Questa è un'altra foto famosa. Hector Peterson, un bambino di otto anni, protesta con i suoi compagni, amici, perché venga insegnato anche lo Swahili nelle scuole, la sua lingua, non solo l'Africans, dei coloni bianchi del Sudafrica. E la polizia gli spara, a Soweto, South West Township di Johannesburg. Del 76 partono di qui le sanzioni delle Nazioni Unite, il boicottaggio del Sudafrica come paese razzista non potrà più partecipare alle Olimpiadi e alla fine arriverà Nelson Mandela. Vedete le foto hanno, quando riescono a condensare dei significati politici importanti, hanno questa potenza. e questa è la scelta di Picasso. Faccio un quadro in bianco e in nero perché voglio che la gente abbia la sensazione della realtà. C'è una frase di Wim Wenders, che è un regista che voi non conoscete, un po' nodiosetto, però questa frase penso che sarebbe molto piaciuta a Picasso, lo dice un personaggio dello Stato delle Cose, che è uno dei primi film di Wenders, dice la vita è a colori, ma il bianco e nero è più realistico. E queste foto che vi ho fatto vedere sono tutte in bianco e nero. Quando voi trovate raramente un filmato, un'immagine in bianco e nero avete il senso del modernariato, cioè di qualcosa che viene dal passato e che è un documento, un documento attendibile, storico. Ecco perché Picasso dipinge in bianco e nero. Come vedete l'artista si inchina alla moderna potenza dei mezzi di comunicazione di massa. Faccio un quadro perché vorrei cercare che questo quadro diventi come la fotografia di Robert Capa, qualcosa che va oltre le frontiere, che riesce a impressionare tutti. e in qualche modo ci è riuscito come vedete, perché tutti più o meno non sapete tutte queste cose che vi sto dicendo ora, però questo quadro vi è capitato di vederlo, riprodotto su una tazza, su una maglietta, in un manifesto, da qualche parte l'avete visto. Quindi è diventato quello che noi a comunicazione chiamiamo un'icona, cioè un simbolo, qualcosa che riassume in sé tanti significati diversi a seconda dell'interlocutore che lo guarda, dello spettatore. Questa è una prima possibile interpretazione del bianco e nero di Picasso. Ce n'è un'altra che parte da qui. Ora questo è un interesse privato in atti di ufficio perché questo sarei io quando mi ha disegnato il mio figliolo all'asilo, che si chiama Marco come si può vedere. Picasso ha studiato, artisti si nasce ma poi anche si diventa. Ha studiato Giotto, ha studiato Cimabue, ha studiato Leonardo, ha studiato Michelangelo, è andato a scuola. Però a un certo punto si fa una domanda e dice, ma com'è che disegnavo io quando avevo tre o quattro anni? Cioè quando la scuola non mi aveva curvato, disciplinato, reso in qualche modo un po' più uguale a tutti gli altri. Com'ero io? Com'ero io? Ed è alla ricerca di questa risposta. Quando si imbatte in questa cosa qui? Va a una mostra, altro Caderò a Parigi, è una delle prime mostre all'inizio del secolo su queste sculture di legno che vengono dalle civiltà africane. Qui c'è già un po' di globalizzazione. Vedete? A Parigi si mette in mostra quello che i popoli primitivi, si diceva allora, dell'Africa producevano e Picasso rimane come folgorato. Dice, eccolo quello che cercavo. Ecco il modo di dipingere di un bambino. Tratti essenziali, le righe. Quello che conta è l'impressione. È l'impatto di qualcosa che non è racchiuso nella bellezza del colore, nel realismo delle forme, del disegno. È un'emozione. Un'emozione. Il mio figliolo, quando mi ritrae, mi ritrae, come vedete, è tutto nero. Eccoci il bianco e il nero, no? Perché il colore non importa. Importa il fatto che io sono altissimo. I piccoli vedono così il mondo dei grandi. Le braccia, le mani, la testa sono poco importanti. Lui è partito dal basso e poi si è accorto che il foglio non gli bastava perché quello che gli interessava mettere sul foglio era la sensazione del piccolo. Guarda, guarda. Una intrusione. E vedete che Picasso queste maschere, ecco che le rifà. Questo è 1907, quindi siamo 30 anni prima di Guernica. E vedete, le facce sono proprio quelle delle maschere di legno delle civiltà primitive africane. Noi le chiamiamo primitive, allora le chiamavano primitive, adesso ci stiamo un po' più attenti. Perché non sono primitive. Nel senso che non è che c'è una stessa contemporaneità in tutto il mondo. Sono civiltà che hanno avuto una storia diversa dalla nostra. Con meno stato, con meno istituzioni, con meno architetture. Perché in Africa si vive in modo diverso. Quindi è sbagliato mettere le civiltà a seconda di una gerarchia che le possa mettere in un ordine di superiorità e di inferiorità. Per Picasso questo è molto importante perché lì ha ritrovato lo spunto che poi lo guiderà per tutta la sua vita. Questo quadro qui segna la nascita del movimento cubista. Poi c'è la storia dell'arte che rende noiose le emozioni. Nel senso che ci obbliga a spiegare qual è la percezione dei quadri. Se io faccio piazza pulita di tutti i discorsi che ho fatto finora e vi chiedo, che cosa ci dice questo quadro? Caos, dolore, sofferenza. È questa l'emozione del Picasso che vuole dipingere come un bambino piccolo. Non guardate quello che io disegno. Guardate la sensazione che vi trasmette. Tutto questo quadro è dato per trasmettere questa sensazione. E perché? Perché Picasso ha avuto una committenza molto importante. Quell'anno si tiene a Parigi nel 1937 l'Expo, l'Esposizione Internazionale. Dalla fine dell'Ottocento si fanno ogni due anni in una città del mondo per rappresentare la rassegna di tutte le grandi conquiste della civiltà umana. Nel campo della scienza, della tecnologia, anche dell'arte. si chiede agli artisti più importanti del momento un quadro che celebri questa rassegna dei successi. E Picasso dice, col cavolo che io vi dipingo un successo. Nella mia terra c'è una guerra civile. Nella mia terra, come la foto di Robert Kappa vi ha mostrato, la gente muore. E allora io vi dipingo questo. E vi dipingo che cosa? Un villaggio basco, 6.000 anime, 6.000 abitanti, senza nessuna importanza militare, strategica, che viene attaccato da un'aviazione straniera, tedesca, ricostituita in violazione del Trattato di Pace di Versaglio del 1919 dopo la Grande Guerra che vietava alla Germania di riavere un'aviazione da guerra. E per la prima volta questa aviazione attacca un insediamento civile senza importanza, senza strutture militari. È una guerra che perde i suoi confini. La Prima Guerra Mondiale ha fatto il 5% di vittime civili sul nostro fronte, sul fronte occidentale. E quel 5% di vittime civili sono vittime di Spagnola, cioè di malattie, di epidemie, che sono la conseguenza indiretta del passaggio degli eserciti e dall'abbassamento degli standard igienico-sanitari. Il fatto che si attacchi un villaggio solo di civili rappresenta una violazione palese e flagrante degli accordi dell'AIA internazionali, l'ha sottoscritti anche la Germania nel 1907, solennemente riaffermati nel 1929 a Ginevra. La Germania le ha sottoscritti e si è impegnata quindi a non attaccare i civili indifesi. La viola, questa regola, rispettata da tutti fino ad ora, perché? Perché gli preme dare un messaggio. Siamo in una guerra civile, il governo repubblicano è stato eletto democraticamente nel 1932, nel 1934, poi nel 1936 c'è l'alzamento, come lo chiamano ancora oggi in Spagna, cioè la ribellione dei militari. Francisco Franco li guida dal Marocco, passa in Spagna e c'è la guerra civile. In Spagna e c'è la guerra civile. Abbiamo un ritorno d'eco. No, no, no. Abbiamo un ritorno d'eco. No, no, no. Sì, c'è ancora. Sì, c'è ancora. Professore, mi scusi, sono Ginetta Betti, non vediamo le immagini, potrebbe condividere lo schermo, mi scusi tanto, se l'ho interrotta. Andrea, lo sai che come si fa? Ha fatto benissimo, doveva farlo prima. Forse a schermo intero lo vogliano? Mi pare che non lo faccia più ora l'eco. Lo vedete ora? Ginetta? Senti? Io non vedo ancora. Scusate, le altre le altre persone lo vedono? Possiamo avere un feedback. No, mi risulta che non lo vedano. Come si fa? Manca la condivisione nella finestra del PowerPoint, la presentazione poi va condivisa. la presentazione del PowerPoint, la presentazione del PowerPoint, quindi chiudi la condivisione, chiudi la condivisione, li fanno ripartire, la mucca, fai su un mucca, fai presenta una, e poi un problema che non compare, come vedi, la prova che vai a un mucca, condividi, presenta una, lo schermo intero, poi condividi, condividi e altri provatori, altri provatori in basso, in basso. Ora dovrebbe vedersi, vado a portare. Vedete? Ora va bene, io vedo, sì, lo vedo, perfetto. Ah, vi tocca ripartire dall'inizio? No, via, ve le faccio vedere in rapida successione. Questa è Ghirnica, questa è la foto di Robert Capa del miliziano morente, queste sono le altre foto che hanno un po' cambiato la storia, del Vietnam, del Sudafrica, questo sono io e non ci importa granché, queste sono le maschere di legno dell'arte africana e queste le De Moselle d'Avignon, che è la nascita del movimento cubista. Allora, stavo parlando di Ghirnica, il suo significato politico, e questa è l'ultima cosa che vi voglio dire. Questa violazione della legalità della guerra, perché la guerra ha una sua legalità, e ci sono accordi internazionali che l'hanno sempre ribadita e riconfermata fino ai giorni nostri, resta una svolta irreversibile. Qui si vede la capacità profetica, anticipatrice dell'artista. Guardate la lampadina che sta in mezzo al quadro, in alto. Che cos'è questa? Alcuni testimoni, Picasso li sentì, poi vennero riportati sui giornali, testimoniarono di questo attacco dal cielo come una luce enorme, potentissima, che squarciò il cielo di Ghirnica, e Picasso ci mette una lampadina dentro. Perché? Ci dice, c'è una tecnologia che può essere buona o cattiva. Ci può portare la luce in casa, come fa la lampadina elettrica, oppure può portare la morte. La tecnologia dipende da come viene usata. La tecnologia è una responsabilità in più che si cresce per l'uomo, perché l'uomo deve saperla usare in modo pacifico. Siamo otto anni prima della bomba atomica, però Picasso ha già visto, ha già intravisto questo futuro. E come sapete con la bomba atomica questa capacità della tecnologia si moltiplica. guardate questo toro, guardate questa persona. Vedete che sono come le sogliole, hanno gli occhi dalla stessa parte. Questo è l'essenza del movimento cubista, nel senso che vuole dare l'impressione, per questo il cubo, della rotazione delle forme, come se invece di un dipinto bidimensionale fosse una scultura tridimensionale. Allora questo modo di dipingere, si ritorna al discorso del bambino, è quello che vuole dare l'impressione del movimento, della drammaticità. Queste persone sono rappresentate, e il toro è il simbolo della Spagna, come sapete, la corrida, eccetera, come dentro questo vortice della guerra e della violenza. La tecnologia della lampadina è qualcosa che sconvolge tutti e che li mette tutti, non in un movimento positivo, ma nel caos, nella confusione drammatica della morte. Questo è il senso del quadro, e queste sono tutte le immagini simboliche, poi si può stare ore naturalmente, perché ci sono tanti disegni in questo quadro, ma quello che è importante è riuscire a tornare alla emozione. Questo è il messaggio che Picasso vuole dare. La cosa importante alla fine è questo, è il fatto che Picasso ci vuole rappresentare come bambini. E qui c'è un passaggio, per chi aveva promesso questo signore qui, Traumdeutung, 1899. Questa parola tedesca, osiostica, è l'interpretazione dei sogni. Cosa fa Freud? Se ci pensate un attimo, fa un passaggio molto simile a quello di Picasso. Riuscire a capire come eravamo da bambini, riuscire a capire chi siamo e cosa siamo diventati crescendo, maturando. C'è una finestra aperta sulla nostra anima e questa finestra sono i sogni. Perché? Perché durante i sogni la mente, la disciplina, le regole, le norme dormono. E allora viene fuori la nostra natura più vera, più autentica, più profonda. Questa è l'idea base del dottor Sigmund Freud di Vienna. E come vedete, è un passaggio molto simile a quello di Picasso. Riuscire a capire chi siamo. E per far questo abbiamo bisogno di una nuova chiave d'accesso che non sia quella tradizionale, che sia qualcosa di nuovo. Il Novecento è anche, non solo questo, ma anche questo tentativo delle scienze sociali di darsi un'autonomia, una legittimità scientifica e soprattutto di indirizzarsi a questo scopo, cercare di capire che cos'è l'uomo, se è buono, se è cattivo, che cosa farà della sua vita. Questo passaggio è molto simile alla pittura astratta, come poi la chiamiamo noi, che siamo uomini della strada, ignoranti, non ci intendiamo di storia dell'arte. Perché appunto la pittura astratta mette lo spettatore che la guarda nella condizione di interpretare lui il quadro e di dare lui i significati che crede. La soggettività di chi guarda, gli occhiali con cui guarda, sono altrettanto importanti quanto la cosa che lui guarda. E quindi ogni significato sarà diverso da persona a persona. La soggettività diventa il centro, il cuore delle scienze sociali, delle scienze umane. E però questa soggettività doveva finire. Negli stessi anni, questi anni qui del primo del secolo, c'è un impiegato all'ufficio Brevetti di Berna, in Svizzera, si chiama Albert Einstein. E lui ha il problema di mettere d'accordo i diversi orologi di tutto il mondo. È un problema che è stato risolto nel 1866, diversi decenni prima, col fuso orario, il meridiano di Greenwich, dice l'Inghilterra detta legge perché è la padrona dei mari, la regina incontrastata della navigazione. E quindi a Greenwich, sul borgo di Londra, se andate c'è ancora lì questa linea che insegna il meridiano, tutto il tempo si definisce, si misura in relazione a Londra. Ma però i conti non tornano. I conti non tornano. Einstein riflette sul fatto che se noi andiamo sugli spazi immensi, quello che davvero diventa importante non è più il tempo, che diventa diverso, dalla Terra al Sole alle altre stelle. È la velocità della luce. Allora io qui vi ho messo questa immagine. Questa è la foto dell'infinito, cioè del punto più lontano che noi siamo riusciti a immortalare. Nel 1995 è stato lanciato questo Hubble, che è un telescopio in orbita. Voi sapete che uno dei problemi per vedere le stelle bene è la luce, che ci sia troppo inquinamento luminoso, quindi nello spazio si guarda. È stato tenuto aperto dieci giorni l'obiettivo di questo telescopio per immortalare questa foto, che attenzione, è un ventottesimo della superficie lunare. Immaginate il cielo, no? Ce l'avete sopra la testa, poi c'è la Luna, che è un piccolo pallino. La ventottesima parte, è una parte molto piccola della Luna. Quindi è proprio un buco della serratura. Attorno c'è un'altra enormità di spazio che abbiamo sopra la testa. In questo piccolo buco della serratura quelle macchie di luce più grandi che vedete sono galassie. Hanno, se sono uguali alla nostra, la Via Lattea, 40 miliardi di soli come il nostro. E queste galassie stanno viaggiando, allontanandosi da noi a una velocità che è ancora crescente. Si calcola che la luce di queste stelle, cioè quella che noi abbiamo immortalato con questa foto, ci abbia messo tutto il tempo che noi conosciamo, cioè 13,7 miliardi di anni, per arrivare fino a noi. Ecco perché vi ho detto, un po' enfatizzando, è la foto dell'infinito. Allora, Einstein riflette su questo, sul fatto che il tempo della Terra non può essere il tempo di queste galassie, di queste stelle lontane, ovviamente che la presenza di altre forme di vite è una certezza, non può essere altrimenti, dato un numero così alto di sole e di pianeti, è un calcolo di probabilità, Einstein non è molto appassionato alla fantascienza, è più appassionato a capire come funziona la velocità della luce. Guardate che questo elemento, lo spazio, è qualcosa di un mare in tempesta, non è uno spazio vuoto come pensiamo a noi nei film degli astronauti, è un mare in tempesta, ci sono i campi gravitazionali, correnti, buchi neri, è veramente qualcosa di enormemente agitato tutto il tempo. E quindi, cos'è l'uomo che sta qui dentro? Siamo piccoli, siamo delle corpuscoli corpuscoli di polvere spersi nello spazio infinito. L'uomo del Novecento vive questa sensazione, pensate, uno pensava nel Cinquecento che il sole girasse attorno alla Terra, che la Terra fosse il cuore di tutto il mondo, si ritrova ad essere questo puntino, sperduto in un universo che è scoppiato 13,7 miliardi di anni fa, noi siamo dentro a questa esplosione che si sta ancora allontanando a velocità crescente dal punto di origine dell'esplosione e siamo dentro una scheggia di questo Big Bang. E allora ti viene paura. Che cosa ci stiamo a fare qui? Questa è la grande questione del Novecento. Gli uomini, le donne, si chiedono chi siamo, appunto, il Dottor Freud, Picasso, la guerra, tutti questi sono tasselli del puzzle che va a comporre l'identità dell'uomo. E dentro questa identità c'è un senso di spaisamento. C'è l'idea che questo universo è veramente molto più grande di noi. E allora viene la tentazione. Viene la tentazione o di mettere la testa sotto la sabbia, come gli struzzi, oppure di rifugiarsi in una piccola patria che ti rassicura. La sensazione dominante dell'uomo del Novecento è l'angoscia, l'ansia. Questo per voi è strano, perché per vostra fortuna voi siete ragazzi e non avete queste preoccupazioni. Però può essere importante, questa è l'ultima cosa che vi dico, l'idea di Picasso. Tornare bambini. Chiedersi sempre chi siamo. C'è un libro del 73, l'ho citato ai miei studenti, noi l'abbiamo un po' dimenticato, è di uno psicologo, Eric Fromm, in fuga dalla Germania nazista, si rifugia a New York, fa diversi libri, uno è questo libro che è To Have or To Be, Avere o Essere, di 1973. E lui dice, attenzione, non attaccate la vostra personalità, la vostra identità, le vostre sicurezze alle cose che possedete, alle scarpe di marca, allo zainetto, alla macchina più grande, allo schermo al plasma. Chiedetevi chi siete, perché quello non ve lo toglierà nessuno quando l'avete scoperto. Le macchine, i vestiti, queste cose si possono perdere. Voi, quello che siete dentro, non ve lo toglierà mai nessuno, basta capirlo. E naturalmente non si capisce una volta per tutte, lo si capisce giorno dopo giorno. Basta, perché se no vi mette a fare il prete e vi auguro una buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Mi chiamo Brian Cabral, sono un direttore di Ingegneria a Oculus e a Facebook. Ok, grazie, grazie professor Gozzini, è una bella lezione perché solleva un sacco di domande e questa è forse una delle cose che meno ci si aspetta quando si comincia a venire all'università, che questo è un posto dove ci si pongono delle domande a cui non sempre i professori che avete di fronte sanno rispondere. Ma questo è il lavoro, è il lavoro della docenza, è il lavoro della ricerca, è il lavoro dello studio. Studiare vuol dire scoprire, non avere risposte, ma vuol dire anche avere la curiosità di ulteriori domande che non vi siete fatti e spero che alla fine capiate che quello che dovete fare è essere veramente curiosi di farvi le domande. Allora, io naturalmente adesso ho un piccolo programma per chiudere questo incontro che prevede che passi la parola al mio collega professor Valzania per l'attività di orientamento e tutorato. L'università, come la scuola, è un mondo complesso in cui ci sono anche delle regole semplici, difficili, ma comunque fatte per migliorare la vostra vita qua dentro che vanno rispettate. Quando entrate all'università o quando siete a scuola e intendete farlo subito dopo, dovete porvi il problema di che vita trovate prima di che attività farete. E questo è importante. Noi cerchiamo di creare delle condizioni che vi rendano familiare subito quello che trovate. Adesso siamo in un bel edificio. Questo è il Santa Chiara Lab. È un, lo chiamiamo, hub di innovazione dove si fa ricerca che dovrebbe servire non oggi ma domani. Ma è un posto dove le persone di tutto l'Ateneo vengono per studiare, per fare ricerca, per provare e testare i nostri laboratori. È uno dei posti che l'università offre agli studenti. Per questo dobbiamo naturalmente capire come utilizzare, come usufruire di queste attività, di queste ricchezze che l'università ha. Passo la parola al professor Valsania che vi racconta come abbiamo organizzato l'attività sia di orientamento prima della vostra iscrizione che sia di tutorato quando siete iscritti. Poi ci sarà lo spazio per i tutor che lascio Andrea introdurre. Grazie, buongiorno a tutti, mi sentite, ci vedete? Intanto rifacciamo una prova di questo tipo perché non avevamo visto la chat purtroppo e quindi siamo intervenuti un po' tardivamente per farvi vedere le slide che proiettavamo. Ci scusiamo di questo. Allora, io sono il delegato all'orientamento e al tutorato del Dipartimento e approfitto di questa giornata che è una giornata di presentazione diciamo delle attività e di benvenuto alle matricole per cogliere l'occasione se lo volete vedo parecchie scuole collegate anche per essere a disposizione di una sorta di come dire orientamento non previsto in questa giornata. Quindi se avete come dire domande curiosità sui nostri corsi soprattutto i nostri corsi triennali appunto scienze della comunicazione scienze del servizio sociale io sono qui a disposizione per rispondere alle vostre domande apriamo una discussione del tutto come dire franca è l'occasione giusta per farci delle domande e per porci dei quesiti di vostro interesse. Chiaramente ci sono anche i momenti più istituzionali in cui noi facciamo orientamento con le scuole e apriamo per esempio il nostro dipartimento alle scuole nei cosiddetti open day che sono dei momenti annuali nei quali appunto spieghiamo quali sono i nostri corsi di laurea quali sono le prospettive professionali di questi corsi come sono costruiti caratterizzati quali sono come dire i principali insegnamenti che appunto teniamo all'interno dei corsi eccetera e quindi ci sono dei momenti istituzionali di solito sono due all'anno uno che viene organizzato a livello di ateneo e uno che viene organizzato a livello di dipartimento con le scuole e con gli studenti ai quali potete partecipare e venire qui a Siena se sarà possibile oppure a distanza per seguire queste iniziative di orientamento l'orientamento non si ferma qui non si ferma a questi due open day noi con tutte le scuole siamo a disposizione se lo vorrete a venire da voi anzi secondo noi funziona molto meglio un orientamento che facciamo nelle scuole che non l'orientamento che facciamo all'università siamo quindi a vostra disposizione io mi potete scrivere personalmente trovando la mia mail sull'elenco docenti del dipartimento nel sito di SPOC c'è ovviamente segnalato il referente all'orientamento e tutorato sono a disposizione per prendere le vostre richieste e poi organizzarmi con i miei colleghi per venire nelle scuole a fare orientamento quando sarà il momento giusto quando appunto i docenti delle vostre scuole insieme a voi lo riterranno utile l'orientamento poi prosegue anche a livello mi viene da dire virtuale nel senso potete trovare tantissime informazioni sul nostro sito del dipartimento che abbiamo aggiornato e rinnovato potete trovare informazioni importanti anche sul sito orientarsi dell'Ateneo dove appunto sono presentati tutti i corsi in forma anche comparata tra loro e quindi diciamo l'orientamento è un orientamento che insieme appunto agli uffici del rettorato noi proviamo a fare durante tutto l'anno non ci sono soltanto dei momenti istituzionali organizzati ad hoc ma insomma proviamo a farlo tutto l'anno l'altro pezzo importante delle nostre attività di questo tipo è quello del tutorato agli studenti e qui mi rivolgo sia agli studenti collegati a distanza che sono matricole di quest'anno accademico sia agli studenti delle scuole che poi magari in futuro verranno nel nostro dipartimento noi abbiamo un'attività di tutorato che significa un'attività di accompagnamento degli studenti verso l'ingresso nell'ingresso all'università che è un momento a volte un po' difficile perché appunto si esce dalla scuola superiore si entra in un mondo sconosciuto che ha delle sue regole che ha delle sue logiche anche che bisogna un po' conoscere piano piano per fare questo noi siamo a disposizione io come delegato ovviamente i colleghi che con me lavorano il direttore dipartimento per prendere le vostre eventuali richieste individuali però abbiamo anche attivato insieme agli uffici del rettorato delle figure tutor che sono degli studenti che sono agli ultimi anni diciamo dei loro corsi di laurea che possono fornire la loro conoscenza la loro esperienza che si sono fatti nel corso appunto di questi anni alle matricole e quindi possono diventare molto più che un docente che comunque diciamo è più difficile entrare in relazione diciamo con un docente da parte di un ragazzo che arriva e si iscrive a un corso universitario rispetto a un suo coetaneo di pochi anni più grande quindi abbiamo pensato a queste figure che sono figure per noi centrali molto importanti e che con la loro attività facilitano l'ingresso all'università delle matricole sono a disposizione non per risolvere i problemi ma per informare per come dire orientare anche fare un loro orientamento pratico che non è quello teorico che facciamo noi ma insomma diretto a risolvere i problemi della quotidianità io per questo chiamerei appunto qualcuno di loro magari anche uno se non volete parlare tutti se volete parlare tutti meglio ancora a spiegare un po' la vostra attività proprio in poche parole meglio di me e a anche dare magari qualche informazione su dove vi possono trovare come fanno a rintracciarvi avete delle mail appunto avete dei punti dove dei luoghi dove possono rintracciarvi buongiorno noi siamo Susanna Letizia e Francesco e siamo gli studenti tutor al Dispoc io mi sto per laureare in strategie tecniche della comunicazione e loro due stanno finendo la magistrale in linguistica e niente la nostra attività è iniziata a luglio del 2019 come studenti tutor e ci ha dato grande soddisfazioni noi quello che facciamo appunto come diceva il professore non è semplicemente risolvere i problemi anche perché i problemi che hanno avuto gli studenti sono quelli che abbiamo avuto noi poi alla fine però cerchiamo di fare in qualche modo da mediatori fra l'università l'istituzione e la comunità universitaria gli studenti non si rivolgono a noi solo per semplicemente dubbi ma anche come supporto quasi psicologico a volte non so cosa scegliere nel piano di studi sono nel panico qualunque veramente qualunque cosa e noi cerchiamo con la nostra diciamo esperienza di dare un bel contributo a questi studenti poi a volte anche cose molto più tecniche tipo come faccio a immatricolarmi o cose così però mi piace pensare che siamo più diciamo persone che computer nel senso che sappiamo dare un supporto molto più umano da questo punto di vista poi facciamo appunto accoglienza matricole la cosa importante che dovevamo dire era fondamentalmente i nostri contatti li trovate sulla pagina facebook tutor dispo con i si abbiamo il primo post dove ci sono le nostre mail e potete scriverci anche la pagina di instagram appunto mi viene in mente facebook perché alla fine scriviamo sempre lì cos'altro facciamo accoglienza matricole facevamo ricevimento in presenza prima del prima del covid ma speriamo di poter ricominciare presto quindi si ci potete contattare tramite post elettronica su facebook e noi siamo sempre a disposizione io mi sono ritrovata qualche giorno fa per esempio ad aiutare una ragazza che in realtà è una mia amica perché era ferma sulla tesi da tre anni quindi era ferma mi sono messa a lavorare e io ecco non ho pensato di essere uno studente la cosa bella è che non ho pensato neanche di essere uno studente tutor l'ho fatto perché era una mia amica e per farle piacere ecco cioè riguardiamoci insieme sono i professori del tuo corso cerchiamo di riprendere questa cosa secondo me cioè io credo che questa sia l'essenza dello studente tutor non so se i miei colleghi vogliono aggiungere qualcosa ciao io sono Letizia e sono la tutor del corso di laurea magistrale in Language and Mind e dell'altra laurea in Public and Cultural Diplomacy corso di laurea magistrale in lingua inglese e vabbè fondamentalmente io confermo tutto quello che ha detto Susanna e la mia figura è un pochino diversa perché essendo un tutor di laurea magistrale mi trovo a lavorare più con studenti che hanno già avuto un'esperienza universitaria intriennale che arrivano all'Università di Siena magari cambiando Ateneo e che quindi hanno un altro tipo magari di difficoltà e più magari sulle procedure burocratiche che ci sono all'Università di Siena che possono essere diverse poca familiarità con i siti e spesso e volentieri però anche appunto domande sul corso cioè sul piano di studi sui vari corsi che offriamo però confermo che la cosa molto bella è che contattandoci via mail possiamo avere c'è uno scambio di informazioni più pratiche più dirette più veloci ma spesso e volentieri soprattutto durante il periodo del covid anche tramite videochiamate poi ci si può conoscere per cui chi aveva domande sulla vita a Siena su proprio il corso di laurea come organizzato come sono i professori poi si possono avere veramente dei bei dialoghi a me piace molto perché si crea familiarità si crea un rapporto con gli studenti e almeno per quanto riguarda il nostro ripartimento si finisce quasi che poi ci si conosce tutti è molto bello perché è curato familiare e c'è molta attenzione a ogni singolo studente questo un po' tramite noi sicuramente però poi tramite anche tutti i docenti tutti reperibili disponibili cioè ci si indirizza poi a seconda delle competenze gli uni agli altri però questo anche in modo molto veloce diretto e sempre molto cordiale ecco quindi io direi questo sì grazie io mi chiamo Francesco e anch'io studio language and mind e sono come Susanna tutor dell'intero dipartimento anche se poi a livello pratico dato che conosco molto meglio il mio corso di laurea e diciamo che aiuto di più Letizia rispetto a rispetto a occuparmi dei corsi di scienza del servizio sociale e di scienza della comunicazione che Susanna e le altre ragazze tutte conoscono molto meglio di me però siccome di lavoro ce n'è tanto e il fatto di essere diversi ci 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 aiuta ecco a dare il massimo nel in quello che siamo più capaci di fare io volevo raccontare semplicemente una cosa che mi ha colpito molto qualche settimana fa e mi ha chiamato una ragazza che era un po' in crisi perché è arrivata tardi all'università perché ha avuto dei problemi e mi ha fatto una serie di domande molto pratiche alcune che magari essendo in università da un po' uno dice potrebbero sembrare scontate per chi c'è però per chi non c'è può fare un po' paura ci può essere un po' di soggezione si può vedere l'università come qualcosa di lontano la segreteria che fa paura chissà se mi rispondono i docenti oddio in realtà poi è stato molto bello venire in dialogo con lei e alla fine proprio si è come liberata dicendo che è bello avere qualcuno a cui poter fare riferimento che è bello sapere che ci siete e questa cosa mi ha dato molta soddisfazione perché mi rendo conto che il motivo per cui ho scelto di mettermi a servizio gli studenti è proprio questo e quindi accade insomma che c'è un ci sono degli incontri belli come diceva Letizia e quindi niente io veramente per qualsiasi domanda che possiate avere non esitate a contattarci anche domande generiche proprio su perché noi siamo all'università o che cosa ci aspettiamo dal futuro come sono stati questi anni e poi chiaramente tutte le domande più specifiche del caso su ogni corso vi potrebbe interessare e quindi niente come dicevano le mie colleghe siamo disponibili sempre sui social Instagram e Facebook Tutor Dispoc Unisì le nostre mail istituzionali le trovate sui siti dell'orientamento tutorato ecco in realtà dunque Susanna diceva bene che facciamo sicuramente ricevimento online però abbiamo ripreso da poco a fare ricevimento in presenza perché ci hanno dotato insomma delle barriere protettive per questo in questo periodo difficile quindi ci siamo eventualmente anche in presenza quindi grazie 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 davvero grazie molte sì se volete allora io coglierei questa occasione vedo 48 48 presenze a distanza immagino che siano sia matricole che appunto sicuramente anche scuole che vedo collegate quindi coglierei questa occasione per eventuali vostre domande di qualunque tipo sia domande diciamo da parte delle matricole legate al giorno di benvenuto che è questo che stiamo facendo sia a questo punto domande anche di orientamento se qualche scuola vuole intervenire a curiosità soprattutto sulle nostre triennali sentirei un po' voi fatevi coraggio se ci sono domande ovviamente non siate obbligati ma insomma cogliete l'occasione è un'occasione per stimolare un po' anche il confronto direi questo mi sembra opportuno ricordare che l'università di Siena è stata la una delle non tante università fatemi dire che ha aperto in presenza tutti i corsi dall'inizio quest'anno se voi noi abbiamo notizia di quello che sta avvenendo negli altri atenei la scelta dell'università di Siena è stata la stessa delle scuole aprire il primo giorno e avere tutti i docenti in aula e permettere anche eventualmente a studenti che non potessero partecipare per motivi anche di difficoltà negli spostamenti nei movimenti di seguire a distanza le lezioni è una scelta che il nostro rettore il professor Frati ha fatto con molta decisione e ha pagato perché io e tutti noi e tutti i miei colleghi abbiamo cominciato a insegnare il 28 di ottobre e diciamo abbiamo delle aule piene abbiamo costruito le aule e allocato le aule tra i diversi corsi in modo da rispettare la distanza di sicurezza tra non solo docenti e studenti ma anche tra gli studenti e questo ha permesso di ricominciare a lavorare come l'università deve lavorare in presenza naturalmente come vedete eventi come questo possono avere più successo perché coinvolgono persone che adesso stanno in aula o che stanno magari lontani da Siena e quindi permettono una comunicazione più ricca e più intensa tra l'università e tutta la comunità universitaria ma ciò che mi piace ribadire è il fatto che la scelta dell'università di Siena è di portarvi in aula il più possibile e questa è una cosa che chi è a scuola sa benissimo quanto è importante perché credo che tornare a scuola nei banchi di scuola quest'anno sia stata un'esperienza molto più bella degli anni scorsi anche con tutte le difficoltà perché ha voluto dire uscire da un periodo difficile in qualche modo e cercare di tornare alla normalità lo stiamo facendo qui con successo direi fino a questo momento e spero che lo stesso avvenga nelle scuole allora vi lascerei naturalmente domande su questi sulla nostra vita su quello che stiamo facendo adesso magari sui problemi che si verificano si stanno verificando e che sono legati al periodo dell'emergenza sanitaria prego a voi provate a dirci cosa anche ne pensate di questa scelta qualche matricola che ci racconta la sua esperienza in presenza magari può essere utile anche per gli altri studenti che ci stanno seguendo e che magari sono a scuola qualcuno che ha già cominciato a seguire le lezioni impressioni personali su quello che su quello che hanno vissuto fino adesso prego fatevi coraggio se no passo la parola ai tutor che sicuramente ci racconteranno la loro esperienza lo raccontate come è stato il ritorno in aula per chi ha insegnato per chi ha seguito corsi adesso voi avete seguito corsi no perché stanno preparando la tesi di lauree stanno preparando la tesi di lauree quindi dunque fatemi solo raccontare che tornare in aula è stata un'esperienza importante anche per noi docenti riavere la possibilità di vedervi anche se magari con la mascherina dà un senso al nostro lavoro che condividiamo con chi insegna a scuola i colleghi docenti delle scuole superiori che ci stanno sentendo naturalmente hanno sicuramente provato la stessa gioia di rivedere i loro i loro allievi nei banchi delle loro classi e questo è stato vero anche per noi e ci teniamo molto ci tenevo molto a dirlo come come docente prima che come direttore di un dipartimento che ha seguito come tutti i dipartimenti dell'Ateneo e rientro in aula con molta con molta gioia con molta felicità allora ancora una volta vi 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 invito eventualmente a fare domande Andrea io volevo aggiungere mi metto qua perché mi hanno detto che altrimenti non sono inquadrato volevo soltanto aggiungere che c'è stata una buona risposta da parte degli studenti a questa iniziativa dell'Università di Siena di aprire in presenza l'anno accademico io per esempio nel mio corso che ho iniziato da una settimana ho la maggioranza degli iscritti al corso in presenza tant'è vero che ho anche problemi di aula perché ho un'aula piccola e c'è un assemblamento di persone che devo un po' gestire però questo è un segnale importante anche da parte degli studenti c'è voglia di tornare all'università nel luogo fisico dove si svolge la docenza e dove si può interagire meglio che non a distanza come tra l'altro stiamo verificando ora visto che non ci fate domande l'interazione è più fredda l'interazione è appunto a distanza noi siamo convinti che invece la presenza aiuti il docente aiuti anche la comunicazione che avviene durante una docenza quindi ecco un risultato molto importante di queste prime settimane la grande partecipazione degli studenti alle lezioni in presenza lo volevo ribadire perché non era scontato è stata un po' anche una scommessa da parte del rettore che mi sembra stia funzionando sulla base di quello che diceva anche il direttore cogliete l'occasione anche per domande sull'orientamento perché siamo qui a questo punto anche a fare un po' di orientamento visto che ci sono parecchie scuole collegate altrimenti non so altrimenti ci salutiamo come dire non è che possiamo stare anche via chat se non volete intervenire volete fare domande via chat ecco benissimo si stanno salutando salutiamo anche noi la scuola San Rocchi di Siena che ringraziamo per essere stata presente stamani e restiamo a disposizione ribadisco ancora una volta ma credo che il messaggio sia passato per venire nelle vostre scuole a fare orientamento ecco quindi contattatemi direttamente o tramite gli uffici del rettorato all'orientamento al tutorato per fissare incontri di orientamento da voi dove appunto possiamo anche come dire prenderci un po' di tempo per spiegarvi come sono costruiti i nostri corsi quali sono le prospettive eccetera la chat si ci stanno salutando ci stanno ringraziando però appunto non essendoci domande io non lo so Alessandro ringrazierai allora tutti i partecipanti e vi darei vi do il benvenuto diciamo a voi do il benvenuto a tutte le matricole iscritte ai corsi del nostro dipartimento e poi ci risentiamo